A noi tutti piace il cinema, ma non tutti conoscono le origini del cinema. Il cinema fu inventato, fu scoperto nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Ma perché il cinema potesse diventare quello che noi oggi conosciamo, anche in realtà potesse diventare semplicemente la settima arte, c'era bisogno di alcuni prerequisiti. Il primo prerequisito, il prerequisito fondamentale per lo sviluppo del cinema, fu capire come l'occhio umano percepisse il movimento. Si scoprì che l'occhio umano percepisce il movimento quando gli vengono fatte passare davanti almeno 16 immagini al secondo. Questa capacità dell'occhio umano nell'Ottocento fu sfruttata ad esempio dal fenachitoscopio, un attrezzo formato da un manico e da due rondelle. Sulla prima rondella, su quella più vicino allo spettatore, avevamo dei tagli, delle fessure. Su quella più lontano, sulla seconda rondella, avevamo dei disegni, uno leggermente diverso dal precedente. Facendo girare le due rondelle, guardando attraverso le fessure, avremmo potuto vedere le immagini muoversi. Andate a cercare su internet il fenachitoscopio e vedrete che ci sono delle immagini veramente belle e suggestive. Il secondo prerequisito perché il cinema si potesse formare era la possibilità di proiettare delle immagini su una superficie. Questa capacità veniva detenuta già dal 600 e dalle lanterne magiche. Mi vengono in mente ad esempio due film in cui potete vedere la lanterna magica. Il primo è un musical con Hugh Jackman che si intitola The Greatest Showman. Il secondo è un cartone della Disney ed è Tarzan. Nel primo, nel musical, possiamo vedere la lanterna magica che viene usata per proiettare delle immagini su un lenzuolo per intrattenere le figlie del protagonista. Nel secondo, in Tarzan, abbiamo Jane che usa la lanterna magica per insegnare, per far vedere a Tarzan com'è lo stile di vita dell'Inghilterra dell'Ottocento. Queste due capacità della lanterna magica, ovvero quella di insegnare e quella di intrattenere, poi passeranno di diritto al cinema, che diventerà un altro mezzo con cui l'essere umano potrà raccontare delle storie. Ma perché poi la base è sempre la stessa. L'essere umano fin da tempi in memori aveva bisogno e avrà comunque sempre bisogno di raccontare e ascoltare delle storie. Mi viene in mente un altro film che vi consiglio di recuperare se non l'avete ancora visto. Probabilmente lo troverete su Netflix, che si intitola Genius. Questo film parla di Thomas Wolfe, uno scrittore degli anni 30. Scrittore anche di Angelo Guarda al passato, un libro che vi consiglio di recuperare e di leggere molto bene in ognuna parte del film. Thomas Wolfe sta camminando per le vie di New York con il suo editore. Siamo negli anni 30, quindi siamo in piena depressione fiscale. E Thomas Wolfe guardandosi in giro, vedendo la povertà, la gente è in fila ad aspettare un piatto di minestra, dice al suo editore che si sente completamente inutile, si sente superfluo. La gente non arriva a fine mese, non riesce a trovare da mangiare e l'unica cosa che lui può dare, l'unica cosa che può trasmettere sono le sue storie, sono i suoi libri, i suoi racconti. L'editore gli risponde che a lui vengono in mente gli uomini delle caverne, quando intorno a un fuoco, stretti l'uno all'altro, tremavano per il freddo e per la paura dei predatori al di fuori del loro accampamento. Fin quando uno di loro non prende la parola e comincia a raccontare una storia, immediatamente l'attenzione di tutta la tribù passa alla storia che viene raccontata, dimenticando i problemi che ci sono intorno. Questo è l'intrattenimento, è la capacità di far passare il tempo senza percepirlo, capacità che hanno tutte le storie, perlomeno le storie belle. Se magari la storia avesse avuto anche una morale, la tribù avrebbe anche potuto imparare qualcosa, metodo su cui si basa la scuola, la scuola dell'obbligo, la scuola che conosciamo tutti, che abbiamo fatto tutti. La scuola non è altro che qualcuno che sa qualcosa, che lo racconta qualcuno che non lo sa. Il terzo prerequisito era la possibilità di congelare la realtà per poi riprodurla. Qui ci viene in aiuto una delle parenti più prossime del cinema, ovvero la fotografia. Però anche la fotografia ebbe un percorso di sviluppo molto lento. Contate che le prime fotografie venivano impressionate su lastre di vetro o di metallo, cosa che riedeva molto difficile il passaggio di 16 immagini al secondo davanti all'occhio umano. Ma nel 39 facciamo un passo avanti, quando William Talbot introduce la pellicola di carta. Ora era almeno possibile stampare le fotografie su lastre di vetro per lanterna magica e proiettare così le fotografie. Un passo avanti non da poco. Ora era soltanto necessario riuscire a farle scorrere a una velocità di almeno 16 al secondo. Dobbiamo aspettare il quarto prerequisito per far sì che il cinema vada a formarsi, ovvero la creazione della pellicola. Nel 1888 George Aseman introduce il Kodak, un macchinario capace di impressionare una pellicola di carta. Ma la vera rivoluzione avviene l'anno seguente, l'89, quando sempre George Aseman introduce la pellicola di celluloide. Dovete tenere conto che però tutti i macchinari, tutte le invenzioni, tutte le scoperte fatte finora di cui abbiamo parlato non erano state formate, non erano state create, non erano state studiate per la creazione del cinema. Saranno proprio i precursori che avranno questa idea di mettere tutto insieme, mettere tutti i prerequisiti insieme per creare il cinema. Tenete conto ad esempio che la pellicola di celluloide era stata inventata per le fotografie. Saranno i precursori a vedere il potenziale, a scoprire il potenziale e a modificare così l'utilizzo della pellicola. Ora ci manca un quinto prerequisito. Il quinto elemento varia un po' da tutti gli altri. Se fino adesso abbiamo parlato di macchinari o di invenzioni o di scoperte che lavorano prettamente sulla luce, il quinto elemento per la formazione del cinema lavora esattamente sull'opposto, lavora sull'ombra. Se vi ricordate quando vi parlavo del fenachitoscopio vi dicevo che la prima rondella aveva delle fessure, quindi aveva delle parti in cui passava la luce e delle parti in cui c'era l'ombra. Questo serviva all'occhio umano per percepire la cadenza della luce, per non percepire un movimento unico e confuso, ma per percepire un movimento lineare. Stessa cosa dovranno fare nelle macchine da presa. I pionieri dovranno trovare il modo di inventarsi un otturatore. Ma nell'Ottocento non era facile creare un otturatore, però per fortuna negli stessi anni veniva creata la macchina da cucire e i precursori del cinema usarono lo stesso meccanismo che è nella macchina da cucire. Quel meccanismo che permette all'ago di cucire molto velocemente, mentre un morsetto altrettanto molto velocemente ferma e fa scorrere il tessuto. Possiamo dire quindi che le macchine da cucire e le macchine da presa all'inizio erano pareti strette, condividendo appunto un meccanismo. Da una parte l'ago da cucire e dall'altra parte l'otturatore. La primissima parte della storia del cinema finisce qui. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così da rimanere collegati, da rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno su tutto il cinema, la storia, i protagonisti. Parleremo di registi, parleremo di attori, parleremo del cinema mondiale, parleremo del cinema indiano, di quello cinese, di quello nordico, di quello africano, di quello italiano importantissimo. Parleremo del cinema americano, il più conosciuto, il più sfruttato. e vi invito anche a cliccare sulla campanella, così da rimanere aggiornati sempre più velocemente e da non perdere neanche un secondo del cinema di oggi e di ieri. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima storia!